buon natale e buon anno a tutti noi soprattutto voglia di vederci presto insieme con gioia e di proseguire il nostro percorso vi voglio bene auguri 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 buone feste buon natale a tutti quanti alle famiglie di tutti voi naturalmente ci auguriamo tutti di ritrovarci il prossimo natale tanti auguri di buon natale tradizionale visto che questo natale sarà un po speciale buone feste a tutti un abbraccio virtuale mi mao bia fissi a pa a questa sena di via e auguri di buon natale e vi auguro e mei auguri di buon natale e felice anno nuovo a tutti auguri di buone feste dalla vostra vicepreside a tutti da leo grotti volevo augurarvi davvero un buon natale e un inizio di anno decisamente migliore di questo anno qua buon natale buone feste assolutamente per tutti assolutamente per sempre che non si ripeta mai più buone feste buon natale buon natale buona scuola per tutti a chi mi sente e chi mi vuole bene e a tutti gli altri ok ciao a tutti da leo ciao ciao e auguri auguri di buon natale auguri a tutti buon natale a tutti auguri di buon natale a tutti quanti auguro a tutti tanti auguri di buon natale a tutti amore e buon natale a tutti felice navidad e felice anno nuovo buon natale e buon anno nuovo auguro a tutti un 2021 migliore del 2020 con affetto a tutti auguri buon natale a tutti e felice anno nuovo speriamo di riuscire a combattere questo virus per tornare più mitiche mai buone vacanze tantissimi auguri di buon natale e felice anno nuovo buon natale a tutti e un buon anno nuovo auguro ai nostri studenti di trovare la forza per superare da vincitori questo periodo che stanno vivendo e auguri di serenità e salute a loro le loro famiglie anche alla dirigente ai colleghi a tutto il personale dell'istituto srata felice navidad bimona affisciapa a fisicini in aiz in come ogni annanato auguri a tutti buone feste ciutti mubarak un natale sonoro a tutti da luisa giovanetti auguri buon natale a tutti auguri per profe a auguri ecco il mio segreto è molto semplice si vede solo con il cuore l'essenziale invisibile agli occhi buon natale e buon anno e gioiello di noel e buon set di san d'anni tanti auguri di un sereno e buon natale pieno di gioia e di colore tanti auguri ragazzi a voi e alle vostre famiglie confidiamo in un anno decisamente migliore augurone di buone feste a tutti quanti gli sraffini gsuar kris lindie possa fare un buon natale e un felice anno nuovo e si ciappa mobbia auguri di buon natale e un felice anno nuovo buon natale a tutti e vi auguro un buon anno a tutti e un buon natale auguri a tutti i dipendenti di auguri di buon natale e un sereno anno nuovo calla cristo jenna buone feste a tutti gli sraffini gsuar kris lindie possa lo scintillio e la gioia del natale riempire il vostro cuore buone feste a tutti a tutti a tutti gli studenti e al personale del collezio sraffa la professora canarozzo os desea una felice navidad per il fanno nuovo e por supuesto moltissima salute bellissime a todos vi faccio un grande augurio di buon natale felice anno nuovo da prof davide franchi e soprattutto vi faccio un augurio di fare attività sportiva sempre e comunque perché lo sport è salute e divertimento non dimenticatelo mai vuon natale tutti e felice anno nuovo buon fishe auguro a tutti un buon natale e un felice anno nuovo buon natale e buon anno e buona feste a tutti alcuni di buone festa mi auguri di buon natale a tutti quando ey christmas is a year game may yeah home be filled with happiness harmony and peace I wish you all all the best auguri a tutti belli e brutti che gli adesejano un felice natal per a tutti e un felice anno nuovo buon natale buone feste a tutti e buon anno nuovo e speriamo che sia un bell'anno auguri a tutti un augurio di buon natale felice navità e un sero anno a todos tanti auguri di buon natale a tutti vi auguro un buon anno nuovo senza più covid e un buon natale da passare felicemente con i vostri cari buone feste speriamo di rivederci presto buon anno nuovo e buone feste auguro a tutti un sereno natale un felice anno nuovo ciao a tutti volevo augurare a tutti buone feste di natale guidiamocene perché passano in fretta e speriamo che questo covid prima o poi ci mora buon natale e felice anno nuovo tanti auguri di buone feste a tutti merry christmas to everyone and have an happy new year hoping that 2021 will be a better year for everyone bye buon natale buone feste buon anno nuovo ciao ragazzi volevo augurare a voi e alle vostre famiglie buon natale merry christmas riservi delle belle sorprese buone feste e buon anno a tutti più di ogni altra cosa custodisce il tuo cuore poiché da esso scorca la vita dal libro dei proverbi merry christmas and the happy new year tanti auguri di buon natale a tutto lo raffa e in particolare ai miei studenti di quinta a quinta cs quarta cs e seconda b tanti auguri di buon natale di felice anno nuovo a tutti con la speranza che il nuovo anno porti delle belle novità e delle belle sorprese per tutti noi auguri felice natale felice anno nuovo auguro a tutti gli studenti dell'istituto raffa di trascorrere un natale di festa e di riposo e assegnerei un esercizio quello di riconoscere l'abbondanza nella propria vita provate a pensarci a tutela della salute di ciascuno di noi avremo alcune limitazioni eppure io penso che potremo vivere un periodo gioioso in compagnia dei nostri cari e di buone letture se solo riusciremo a riconoscere l'abbondanza intorno a noi questo è il mio augurio un augurio di abbondanza frugale e buon 2021 a tutti che questo periodo difficile non diminuisca l'attesa l'armonia e la pace per un santo natale tanti auguri a tutti buon natale buone feste buon anno nuovo e speriamo che il 2021 ci riservi un anno più felice pieno di gioia e felicità e che questo coronavirus è diciamo svanita in fretta buon natale buone feste buon capodanno a tutti speriamo che il nuovo anno non sia peggiore di questo anche perché ce ne vuole l'ufficio didattica augura a tutti buone feste auguri di buon natale felice anno nuovo tanti 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 auguri di buon natale e di buon anno ragazzi lo auguro a tutti voi studenti alle vostre famiglie ai professori spero davvero di tutto cuore che l'anno che arriva ci porti un po di pace e ci permetta di ritrovarci tutti auguri dal vostro dirigente di alessandra rossini